In inverno ci sono piccoli accorgimenti che puoi adottare per curare la tua orchidea falenopsis. Anche se è una buona regola per la coltivazione dell'orchidea tutto l'anno, dovrai garantire soprattutto in inverno una buona esposizione, perché sappiamo che le ore diminuiscono e dunque se hai esposto la tua orchidea a nord è molto difficile che questa rifiorisca. Tuttavia fai sempre attenzione alle correnti d'aria fredda quando tieni l'orchidea nei pressi delle finestre, soprattutto se la falenopsis è in fase di fioritura. Ricorda sempre infatti che i boccioli sono molto sensibili. Se invece l'orchidea è completamente sfiorita, puoi semplicemente tagliare lo stelo. In questo caso si è seccato completamente e non ci sono zone verdi da cui potrebbero rispuntare delle ramificazioni. Taglialo alla base avendo cura di disinfettare le forbici prima e dopo quest'operazione. Una buona abitudine è anche quella di ridurre la frequenza delle innaffiature. Anche se dovrai controllare sempre prima il colore delle radici prima di innaffiare l'orchidea falenopsis, tieni comunque a mente che dovrai farlo con meno frequenza. Meno ore di luce e temperature in calo fanno sì che le radici assorbano l'acqua in modo più lento. Se riduci le innaffiature, eviterai ristagni d'acqua, che quasi sempre portano a marciumi. Grazie.